oggi lunedì 25 febbraio 2019 siamo sul lago benaco la zona riva del garda stiamo vedendo maschio e femmina di germano reale la femmina è un incrocio si vede il bianco e poi due anna trafolleghe ecco la coppia di germani maschio e la femmina un incrocio probabilmente con una papera bianca folaga l'incrocio il maschio di germano reale trentino